Si è concluso con la consegna degli attestati di qualifica professionale il progetto Le Malefatte che si è tenuto presso la sede dell'Associazione di Promozione Sociale Filippo Smaldone presieduta da Suorines De Giorgi a San Cesario di Lecce. Il progetto è approvato e finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e autorizzato dalla Regione Puglia per il conseguimento del diploma di qualifica di operatrice per la realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento. Si è svolto nella serenità e nell'impegno entusiasta delle giovani partecipanti che, con soddisfazione, hanno maturato conoscenze sartoriali e competenze pratiche attraverso processi che vanno dal modellismo al taglio, alla cucitura, alla rifinitura e alla stiratura di capi di abbigliamento. Tutti questi processi sono stati curati dalla maestra di taglio e cucito Marisalo Deserto supportata nel modellismo da Luana Gaetani e dalla volontaria Narita Quarta. Il secondo step è consistito poi nell'apprendistato nel mondo del lavoro attraverso uno stage di 400 ore presso le ditte di confezione e produzione di Lecce e Lequile. Poi c'è stato il terzo step, la conoscenza dei modelli di lavoro attraverso l'orientamento al mondo del lavoro anche tramite i colloqui svolto dalla cooperativa Unica Sociale che ha sviluppato un modello volto a trasmettere alle corsiste l'umiltà e la determinazione nell'essere sempre predisposte ad imparare anche dai fallimenti. Infine, quarto e ultimo step, un laboratorio creativo e solidale di sei mesi per riflettere sul modello da scegliere, pubblico, privato o terzo settore. L'impegno, quando gratifica la persona, sviluppa creatività, gioia e speranza per un inserimento nel tessuto produttivo del territorio. Ecco perché la consegna degli attestati è stato un momento di grande soddisfazione.